su spettacolo mania siamo con dominique donna rumma e antonia truppo benvenute come state bene grazie bene bene grazie allora siamo qui per parlare di piano piano il film di nicola prosatore in cui dominique interpreta anna la giovane protagonista e antonia interpreta susi sua mamma quindi avete questo rapporto conflittuale di cui ora mi parlate però prima volevo sentire dominique su questo tuo primo come dire non è un esordio cinematografico però da protagonista assolutamente sì quindi come ti sei trovata e come definiresti anna che è questa ragazza che insomma vive in questo microcosmo poi a un certo punto trova un varco che come dicevamo anche con il regista va un po oltre no la sua adolescenza consapevolezza allora io mi sono trovata benissimo sul set anche perché come se il mio sogno si realizzasse in qualche modo perché cioè interpretare un ruolo da protagonista e anna è una ragazzina di 13 anni che vive a napoli soltanto con sua madre perché il padre non l'ha mai conosciuto e lei muore dalla voglia di sentirsi grande cioè vuole proprio entrare in questo mondo degli adulti infatti rubi trucchi a sua madre anche qualche sigaretta con la madre ha un rapporto un po particolare cioè si può dire un rapporto odio di amore rapporto comunque normale anche però non capisce in realtà non capisce che la madre tutto ciò che fa lo fa per lei per augurarle un futuro migliore anna si impone anche in qualche modo di essere spavaldano di essere c'è sia qualche atteggiato sì qualche atteggiamento ecco questo è tipico forse no dell'adolescenza sì sì assolutamente c'è io penso che non è adolescente l'adolescenza è un periodo molto importante perché si cambia c'è anche un periodo un po di crisi quindi ci sono atteggiamenti normali antonia intanto raccontaci com'è questa susi rapporto che ha con sua figlia anna lei è una donna sola e non parla con piacere diciamo del del suo compagno quantomeno del papà di anna chi è susi susi è una madre che vorrebbe chiaramente elevare la figlia ha una vita migliore di quella che lei ha avuto e e questo vabbè è anche questo un archetipo diciamo i genitori si sono così soltanto che forse lei ecco prende proprio il contrasto cioè lei vive molto fortemente il contrasto con il luogo nel quale abita perché vorrebbe proprio impedire alla figlia qualunque contatto con questa realtà e lei stessa sentirsi elevata rispetto a questo contesto nel quale vive e del quale poi piano piano scopriamo che invece evidentemente è parte soltanto parte non sentita non percepita da lei con anna un rapporto diciamo definirei il conflittuale nella norma rispetto all'epoca e dell'età e chiaramente forse i genitori soprattutto quelli che si sono fatti male crescendo sanno bene che i giovani devono in qualche modo sfondare e a volte troppo questo confine e la madre giustamente cerca di proteggerla tra l'altro susi è l'unica almeno da quello che si vede nel film che vuole veramente andarsene da lì cioè tutti difendono questa fortezza anche a costo della vita tirando cose no contro la polizia invece lei è l'unica che veramente se ne vuole andare sogna un'altra casa un altro posto quindi sicuramente perché l'idea di ricominciare da qualche parte in qualche modo è un'illusione di miglioria no voglio dire chiaro questa è una cosa che io ho realmente vissuto cioè la parte diciamo biografica del film ha scritto il film insieme al regista quindi c'è qualcosa diciamo che lui mi ha commissionato un racconto proprio su questa vicenda tra l'altro dell'asse mediano che io ho realmente vissuto perché appunto forse ha intravisto un qualcosa in cui muovere questa storia e in effetti c'erano persone che volevano andare persone che volevano restare a seconda proprio di quello che era la loro proiezione del futuro no di quello che sarebbe stato dominic intanto ricordiamo che ti vediamo anche nel commissario ricciardi figlia di maione questo perché ovviamente hai un viso ormai abbastanza diciamo noto che cosa c'è di anna in te e volevo sapere se tu hai trovato il tuo varco e come l'hai trovato nella vita vera no in che modo e poi una riflessione sul fatto che in realtà in questo film alcuni genitori sono molto violenti no anche non magari fisicamente ma sono un po violenti con i figli invece susi ovviamente no e però la frase diciamo il consiglio più grande ti arriva da un insospettabile no dal mariuolo che un po ti fa capire che tu forse dovresti darti insomma dovresti comprenderti di più allora cioè io penso che c'è io andrò non abbiamo in realtà io andrò non abbiamo molte cose in comune intendo dire c'è proprio nell'affrontare le cose le azioni però anche io alla sua età perché io ho 17 anni anche io a 13 anni avevo questa c'è proprio questa voglia di diventare grande c'è ma tutt'oggi ad esempio dico a 18 a 18 anni me ne vado di casa cioè perché io penso che è proprio una cosa di tutti gli adolescenti perché confrontandomi anche con le mie amiche cioè proprio tutti quanti pensiamo questa questa cosa e sì susi in ogni modo cerca di proteggere la figlia forse anna non non comprende ma perché anche io c'è abbiamo questa cosa in comune e il mariuolo poi alla fine glielo fa capire infatti io penso che anna lo capisce che in realtà deve vivere la sua adolescenza perché poi per quelle cose c'è tempo deve crescere e quindi si alla fine il mariuolo gli fa comprendere questa cosa appunto a volte le cose buone arrivano da da persone dalle quali insomma meno te le aspetti poi anna anche un compagno scopre in qualche modo l'amore peppino e quindi anche quello un po turbolento insomma perché all'inizio si all'inizio c'è realtà anna e peppino si incrociano i primi sguardi per caso ci si sono visti sì però proprio il rapporto inizia per puro caso e si inizialmente c'è anna lo sa più per per arrivare al mariuolo perché lei è attratta dal mariuolo però poi alla fine capisce che c'è qualcosa infatti si può vedere anche alla fine del film ma vabbè ovviamente non riveliamo se questo amore va avanti o meno un'ultimissima cosa per chiudere cosa vi piace di questa storia e di questo film naturalmente a entrambe perché consigliate ovviamente di andare io consiglio di vederlo almeno una volta nella vita perché proprio tratta argomenti importantissimi c'è tratta i rapporti tra mamma e figlia poi anche questa cosa che anna non ha un padre quindi ecco c'è anche come esempio la forza che trasmette anno no in qualche modo per quanto mi riguarda questo film c'ha uno stile che in sé è la narrativa del film cioè la storia è raccontata per immagini che raccontano la storia questa velocità questa compattezza del film lascia proprio forse entrare in questo mondo archetipo in questo mondo lontano per chi se lo ricorda per chi ne ha sentito parlare no e quindi ti proietta proprio fisicamente nella storia secondo me e comunque mi raccomando piano 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 così grazie mille grazie a voi